Ciao ragazzi, come avrete letto nella community del nostro canale, purtroppo questo mese non riusciremo a fare le sponsorizzazioni che di solito riusciamo a fare a fine mese perché lei adesso lavora anche il pomeriggio, quindi lavora fino alle 7 e ora che chiude tutto quanto, arrivano alle 8, anche 8 e mezza, quindi stasera e io questa fine settimana lavorerò quindi non ho tempo di evitare, non ho tempo, insomma non avrò voglia di evitare probabilmente, non abbiamo tempo di stare insieme per fare le sponsorizzazioni quindi cosa abbiamo deciso? Abbiamo deciso di facciamo una specie di giveaway però un po' diverso dagli altri, cioè non è che abbiamo magliette da regalare, soldi da dare mi stavi uccidendo una gamba, chi se ne frega o cose così, il nostro giveaway consisterà nel fare una sfida tra di voi e chi rimane, i 5 che vinceranno e andranno sui consigliati del nostro canale, quindi per un mesetto i vostri canali saranno messi i canali, i canali saranno messi nei consigliati sul nostro canale, quindi vuol dire che quando uno apre il nostro canale vede il vostro canale come consigliato subito a destra, almeno su computer subito a destra, appena apro il nostro canale, quindi diciamo che è quasi meglio di una sponsorizzazione normale perché comunque, dopo faranno come a scuola quando devono andare a vedere se sono stati promossi o no, ci sono, ci sono, ci sono una cosa un po' divertente, praticamente dovete, allora, chi partecipa deve scrivere tipo una barzelletta i 5 canali che avranno scritto la barzelletta più bella saranno messi nei consigliati, ovviamente i gusti nostri, insomma le 5 barzellette che ci faranno più ridere saranno i vincitori ovviamente continuate a seguirci, eccetera, perché a fine ottobre poi ci saranno di nuovo le sponsorizzazioni sperando tornino alla normalità, ci sarà comunque la sponsorizzazione di chi è rimasto più attivo poi un'altra cosa che aveva pensato a Kira tempo fa, più avanti inizieremo magari a ogni video, nei vlog, gameplay, eccetera possiamo magari i primi 10 secondi sponsorizzare un nostro iscritto, un canale così almeno, in mente che facciamo, che ne so, 10 video in un mese, per esempio, di quei 10 video togliamo due live, sono 8, possiamo comunque sponsorizzare 8 persone e poi, un secondo, devo parlare di una cosa abbastanza importante perché? cosa vuol dire perché? e quindi vi volevo anche parlare di un commento che c'è stato scritto sempre nel post della community dove volevamo parlarvi di questo giveaway dove Mr. Elite e non vi metto lo screen perché non c'è voglia ma comunque andate a vedere nella community l'ho trovata ancora il commento che ci fa anzi, scrive come se scrivesse solo come se scrivesse solo me pensando che sia solo mio il canale mi sponsorizzi? ti sto aspettando da tantissimo tempo che non è vero perché lui ha giocato con noi a Fall Guys infatti gliel'ho scritto che non è da tantissimo tempo che ci segue anzi, è circa una settimana dall'ultima live che abbiamo fatto di Fall Guys quello che abbiamo giocato con gli iscritti gliel'ho detto e gli ho detto anche di non dire bugie perché ci fanno arrabbiare queste cose e Mr. Elite risponde uffa, allora mi dissi scrivo perché io voglio giocare con te e tu mai e comunque mi rimangio quello che quello che ho detto che ho detto voi non vi meritate un cazzo o almeno quello che c'è scritto lui e noi gli abbiamo risposto in quel momento stavo scrivendo io perché l'ho visto io il commento fai pure grazie per il commento ci servirà appunto per un video che è questo video quindi chi è arrivato fino a qua avrà capito che comunque queste cose non piacciono quindi lui sicuramente sarà no, non lo banniamo neanche lo lascio lì così se volete andarlo a vedere a vedere che tipo è potete andare a vedere è diciamo che è una sponsorizzazione negativa vi invitiamo a non andare su suo canale e insultarlo ma vi invitiamo a riflettere su quello che ha scritto grazie molto su quello che ha scritto e soprattutto di non ripetere il suo stesso errore perché comunque anche se noi non vi banniamo sappiamo che è che ci insulta non verrete mai sponsorizzati e noi non ce ne frega se vi disiscrivete perché comunque non ci facciamo niente diciamo che con YouTube non è che come si dice non è che se vi disiscrivete è la fine delle nostre vite tanto fuori da YouTube abbiamo comunque vita vera quindi non è che ci dispiace ma non moriamo quindi detto questo ricordatevi di giveaway ricordiamo che dovete scrivere una barzelletta poi prenderemo le 5 barzellette più belle poi non so se ci faremo un video sotto adesso vediamo con calma vediamo un attimo com'è da farsi ma penso di sì perché dobbiamo dirvi che è che ha vinto e niente speriamo che partecipiate in tanti buona fortuna e si saliti esatto ciao